benvenuti vediamo gli ingredienti e la preparazione per questo piatto favoloso un chilo di gamberoni 250 g di pomodori un peperoncino fresco 3 cipolle e due spicchi d'aglio e un bel mazzetto di prezzemolo adesso procediamo con la preparazione in una padella versiamo un generoso giro d'olio e gli spicchi d'aglio aggiungiamo il peperoncino e lasciamo rosolare per qualche minuto dopodiché ammorbidiamo le cipolle assieme al peperoncino e gli spicchi d'aglio rosoliamo per qualche minuto e poi aggiungiamo il pomodoro saliamo il tutto e cuociamo per una decina di minuti trascorsi dieci minuti uniamo i gamberoni copriamo con il coperchio e lasciamo cuocere per 5 7 minuti trascorso il tempo di cottura ecco voi i gamberoni sono cotti a questo punto cospargete con del prezzemolo fresco tritato e poi non vi resta che impiattare